Ancora alta pressione sul bacino del Mediterraneo centrale ma con deboli infiltrazioni di aria fresca in quota che mantengono condizioni di modesta instabilità pomeridiana sui rilievi del crinale appenninico. In Toscana giovedì 8 agosto sereno poco nuvoloso con aumento della nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio nelle zone interne e possibilità di locali temporali più frequenti in appennino. Venti deboli di brezza, mari poco mossi, temperature quasi stazionari. Anche sul territorio provinciale cielo sereno poco nuvoloso con locali velature. A Lucche sulla piana temperatura minima 22 massima 33 gradi. A Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 20 massima 32. A Biareggio sul litorale minima 24 massima 29 gradi. Venerdì sereno poco nuvoloso. con temperature però di nuovo in aumento con punte di 37 38 gradi.